Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arceri. Dal 19 al 26 maggio si è svolta la settimana Laudato Si per commemorare il nono anniversario della pubblicazione dell'enciclica Laudato Si sulla cura della Casa Comune di Papa Francesco. E noi oggi ne parleremo con Tina Busacca, membro e animatrice del Circolo Laudato Si di Vittoria ed Elio Criscione che invece è il referente del Circolo Laudato Si di Ragusa. Bentrovati! Grazie, un saluto a tutti. Grazie, un saluto a tutti. Il tema di quest'anno è stato semi di speranza ispirato al simbolo del tempo della creazione 2024, le primizie della speranza, ed è stato accompagnato da una citazione guida tratta dalla Laudato Deum, ovvero non ci sono cambiamenti duraturi senza cambiamenti culturali e non ci sono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone. L'invito è dunque quello di vivere e sostenere la conversione ecologica considerando la speranza il motore di questo cambiamento e traducendo proprio questa speranza in azioni concrete. Vorrei iniziare da una vostra riflessione personale legata proprio al tema di quest'anno per la settimana Laudato Si. Il tema è la speranza. Se non c'è speranza non c'è vita. Quando io ho iniziato a parlare del Circolo Laudato Si sono stato spinto da una riflessione. Tutto quello che succede, tutti questi eventi che vengono chiamati estremi, che portano tanto danno, tanto lutto, mettono sotto gli occhi di tutti, che realmente si dice la natura che si ribella, ma sotto gli occhi di tutti è che la natura in un certo senso soffre e queste sono esperienze e sono espressioni della sua sofferenza. Questa sofferenza sappiamo tutti che è causata dall'aumento della temperatura globale ed è dovuto all'eccesso consumo di anidride carbonica. La causa comunque è antropologica perché l'anidride carbonica è prodotta da attività che sono sfruttamento delle risorse, industrie, tutto che va alla ricerca del guadagno senza tenere conto dei danni che si producono. In fondo la natura è un ammalato con prognosi riservatissima, però c'è la speranza, la speranza che prima o poi l'essere umano possa capire e cambiare. Naturalmente per capire e cambiare bisogna fare, come dice Papa Francesco, la conversione ecologica, spiegare alla gente che piccole mancanze, piccole azioni ben fatte diventano positive. Sono piccole perché sono piccole cose che può fare una persona, ma se ne fanno tante persone diventano delle grandi cose e sono importantissime. Bisogna capire che l'uomo nella conversione su cosa si deve basare, l'uomo un po' illuso dal progresso scientifico enorme che si è verificato, si è illuso di essere onipotente. Io ho pensato che tutto la natura, quindi il creato, fosse a sua disposizione e quindi in certo senso da custode della casa comune del creato non è diventato predatore e noi dobbiamo far cambiare quest'idea. C'è una definizione di Papa Giovanni II che dice che la natura è un libro e gli esseri viventi sono le parole di questo libro. E allora questo libro è stato scritto, l'autore è grandissimo ed è stato scritto con grande perfezione e noi dobbiamo rileggerlo e quindi dobbiamo rispettare tutte le parole di questo libro, quindi tutti gli esseri viventi di questo libro. Bisogna capire questo, che ogni specie ha un compito affidatogli dalla natura e quindi bisogna vivere nel maggiore affiliazione tra tutte le specie, siano esse animali o vegetali. Quindi cosa si deve fare? La speranza dove nasce? Proprio dalla conversione ecologica. Come si fa? Innanzitutto con l'esempio e poi magari comunicando con la gente, spiegando, informando, sensibilizzando, perché spesso la gente non sa neanche che cos'è un ecosistema e gli equilibri che lo mantengono in vita e quindi far capire che certi errori fanno crollare un intero ecosistema e far capire quali sono i danni che procurano. A proposito, io volevo parlare del cambiamento culturale. Un cambiamento culturale non avviene con le parole, cioè io posso fare delle conferenze fino a domani mattina. Le parole, anche se sono pregne di significato, però perdono valore. Perché? Il cambiamento culturale implica che io devo contattare il cittadino personalmente, ma non è che lo devo convincere a cambiare, ma è il mio stile di vita che deve indurre l'altro a cambiare anch'esso, perché capisce che noi che cosa ci proponiamo, come ha detto Elio? Dobbiamo tradurre questa consapevolezza, cioè dire che la nostra madre terra sta morendo, tradurre questa consapevolezza in azioni, ma azioni concrete. Non sono grandi azioni, ma cominciamo dalle piccole azioni quotidiane. Quale? Mi lavo i denti, chiudo l'acqua perché non devo sprecare l'acqua. Faccio la raccolta differenziata perché non posso buttare l'immontizia come mi pare, perché ci sono tanti oggetti che non sono biodegradabili. Comincio a casa mia, quello che ho fatto io, non esiste la plastica a casa mia, cioè dire io che cosa faccio? Se compro qualche cosa, lo compro biodegradabile naturalmente, in modo tale da preservare la natura. Cioè sono piccoli gesti. Addirittura si diceva che anche gli aerei dovremmo viaggiare di meno, perché anche gli aerei lasciano andare quelle scie che sono dannose. Quindi piccole azioni quotidiane, cioè che contagiano gli altri e solo così si può cambiare. L'altro dice vero, ha ragione, guarda io da oggi non farò più così e anziché i piatti di plastica io utilizzo i piatti normali e quindi ce ne sono tante piccole azioni quotidiane che dobbiamo attuare perché si incomincia, se si ha consapevolezza naturalmente, e quindi il contatto con l'altro. Questo cambiamento culturale può avvenire solo così, contatto con l'altro, un contatto diretto con l'esempio. A tal proposito, infatti, il movimento Laudato Si ha lanciato una guida alla celebrazione di otto giorni per la settimana Laudato Si. Ogni giorno è stato proposto un tema specifico sui diversi aspetti dell'ecologia integrale, proprio per ispirare un processo di cambiamento considerevole nel nostro rapporto con il creato nella quotidianità. Come è stato articolato nello specifico? Ad ogni giorno è stato assegnato, oserei dire, un'azione, un compito. Per esempio, il primo giorno il trasporto sostenibile. Per esempio, vengono trasportate tanti prodotti che sono trasportati in contenitori inadeguati. Quindi, cominciando da noi, io vado a fare la spesa, non mi porto la brossa di plastica e quindi mi porto la mia sporta o di stoffa o di quella plastificata forte che la utilizzo anni e anni, eccetera. E questo è il lunedì. Il martedì l'alimentazione sostenibile, siamo sempre alle solite. Alimentazione sostenibile significa usare cibi che siano ecologicamente a posto, non trattati. Cominciamo dal pane che non abbia clifosato, le verdure che non siano trattate, eccetera. Perché questo è un danno, non solo per noi, per la nostra salute, ma anche per l'ambiente. Perché poi queste sostanze, quando c'è un'agricoltura non ecologica, che succede? Che vengono usate delle sostanze chimiche. Queste sostanze solo si trasferiscono nella verdura, ma vanno anche nel sottosuolo, nelle acque e quindi siamo alle solite. Poi le energie rinnovabili. Per esempio, noi per quando riguarda il fotovoltaico siamo d'accordo, ma non trasformare delle aree geografiche dal punto di vista architettonico, che sono importanti per un determinato territorio, la dobbiamo impiantare nelle proprie case per ridurre il dispendio energetico. Cioè dire sì, l'energia sostenibile, però rispettando madre natura. Cioè direi una bella riserva, mettere tanti impianti eoliche che deturpano il territorio. Volevo aggiungere qualcosa sul trasporto, perché ci sono tante persone magari che si regano in ufficio e ognuno porta una macchina e potrebbero invece mettersi d'accordo e andare tutti con una sola macchina. Questo potrebbe essere anche un modo. Un'altra cosa importante è evitare gli sprechi, lo spreco dell'acqua, lo spreco del cibo. Cucinare il cibo che serve per la cena, per il pranzo e non dover buttare dei resti. Il discorso della differenziata, farla ma farla bene. Evitare lo spreco dell'energia, questo sarebbe importante per l'ambiente e per le nostre tasche oltretutto. Evitare l'uso di sostanze che a lungo andare rovinano l'ambiente e possono diventare tossiche anche per noi. Io faccio un esempio. In questo periodo arrivano i rondoni e sono dei grandi mangiatori di insetti e anche di zanzare. Quindi sono importantissimi per l'ecosistema e per noi. Una rondine riesce a mangiare un cento grammi di zanzare e di insetti in una giornata, quindi se li dovessimo contare sarebbero tanti. Purtroppo che succede? Che per anche l'incuria dei cittadini che lasciano per esempio i vasi dove ci sono le piante, i fiori o altro, li lasciano con l'acqua che marcisce, diventa quasi paludosa. In questo periodo è un periodo abbastanza fastidioso per noi esseri umani perché queste zanzare danno fastidio. E allora che cosa succede? Si provvede a fare la disinfestazione con dei prodotti che di anno in anno sono sempre più potenti, sempre più tossici, che non uccidono soltanto gli insetti, ma anche gli insettivori, i poveri rondoni, le rondine, i balestrucci. E fanno male anche alla nostra salute. L'anno scorso col caldo non so quante rondoni caduti a terra sono morti. E allora sensibilità anche nei confronti di questi animali che sono importanti per noi, fanno un lavoro utile per noi. A parte il fatto di rallegrare il cielo e rallegrare le nostre giornate. E quindi quando si trovano per strada, anziché passarci di sopra con la macchina o non curarsene, sarebbe opportuno salvarli, prenderli. Ci sono delle persone che sono disposte a tenerle fino a quando non riescono a farle volare un'altra volta. E questo è un lavoro che faremo in questi giorni. Tina, nello specifico a Vittoria però avete promosso per questa settimana una iniziativa che è la seconda edizione di Coloriamo i nostri barconi. Parlaci di queste iniziative. Questa iniziativa è nata l'anno scorso perché Vittoria ha 123 Palazzi Liberty che si caratterizzano per la loro struttura esterna con decorazioni architettoniche di fiori, uva perché l'uva è stata per noi fonte di ricchezza. E quindi i nostri avi si sono preoccupati di abbellire questi palazzi architettonicamente all'esterno con queste decorazioni e all'interno sono meravigliosi perché ci sono delle pitture che raffigurano le giadre, fanciulle, ninfe che hanno ghirlanti di fiori eccetera. Ne testimonianza il teatro comunale. Ci sono ragazzi che distruggono le nostre bellezze, hanno distrutto per esempio una bellissima fontana a piazza Giordano Bruno. I nostri avi si hanno fatto quei palazzi. Vuol dire che erano sensibili al bello e anche noi dobbiamo essere sensibili al bello perché il bello educa, rinfranga l'anima e quindi abbiamo pensato di promuovere questo coloriamo i nostri balconi. L'anno scorso alla prima edizione ne abbiamo avuti poco. Quest'anno invece abbiamo voluto dare ampio respiro. Io personalmente che ero la direttrice mi sono curata di diffondere le locandine sui social. Io faccio parte di un'altra associazione pure e abbiamo interessato anche quest'altra associazione e abbiamo avuto una soddisfacente riuscita perché io e Maria Teresa e altri componenti siamo andati per strada. Abbiamo contattato la signora e signora ma lei perché non partecipa? Ma no ma il mio balcone non è bello, ma no il suo balcone è bello, partecipa eccetera eccetera. Quindi abbiamo fatto questo cambiamento culturale di cui parlavo poco fa nel senso che bisogna contattare la persona, far capire nella relazione il soggetto capisce l'importanza della bellezza. Ebbene abbiamo avuto 23 partecipanti. Ho nominato una commissione diciamo di tutto prestigio con il professore Barbante, con un architetto paesaggistico con una mia ex alunna che è laureata in l'Accademia delle Belle Arti e poi scenografa che prepara eventi. Quindi hanno loro speso anche il loro tempo per sensibilizzare il cittadino al bello. Si è conclusa il giorno 25 la sala delle Capriate. La sala era piena, abbiamo fatto sentire dei brani musicali, poi insomma abbiamo anche educato perché poi il professore Barbante ha fatto un intervento molto interessante per l'educazione al bello dicendo sì i nostri criteri qual è l'originalità, la creatività, però è pur vero che bisogna anche curare l'esterno perché a volte si fa la casa all'interno bellissima e all'esterno la si lascia così. Anche questa è educazione al bello. Invece Elio, tu sei il referente del Circo Laudato Sì di Ragusa che proprio è nato qualche mese fa, se non erro nel mese di marzo. Ecco, raccontaci un po' come è iniziato il tutto, cosa ti ha spinto a portare questa esperienza a Ragusa e penso che sia partito da una tua esperienza personale, da un tuo cammino personale. E cosa è successo in questi primi mesi? Io sono un amante della natura. A me piace girare, vedere il verde, vedere posti fioriti, alberi o altro. E oltretutto vedevo il degrado della mia città, la sporcizia che c'è nei bordi delle strade. Dove c'è del verde si butta immondizia, è una cosa incredibile, che è ancora più difficile puoi toglierla. E quindi ho sentito il bisogno di fare qualcosa. Io sono un fan di Papa Francesco, lo ammiro in modo incredibile. Mi sono appassionato a questa sua enciclica e a questo suo sforzo. Forse è l'unico paladino della natura che si sta dando da fare veramente. Ho parlato con Don Nicola, il parroco della parrocchia di San Francesco. Lui è stato entusiasta, ha accolto questa idea e ha messo a disposizione la Chiesa e se stesso. Ho parlato con alcuni che ho avvicinato al circolo. In Chiesa, durante la messa, ho invitato gli uomini di buona volontà, come dice Papa Francesco nella Laudate Deum, ad aderire o quantomeno a fornire delle proposte. E quindi siamo partiti da lì. Ci incontriamo per riflettere sulle problematiche e sui modi per poterle risolvere. E fra un altro un problema che riteniamo importante è questo. Il danno che si determina alla natura e che magari porta ricchezza a pochi, nelle sue manifestazioni poi, danneggia soltanto i disperati, i poveri. E quindi questa iniziativa e questa voglia di proteggere l'ambiente, di sensibilizzare la gente, deve andare di pari passo con l'aggregazione, il rispetto e l'attenzione dei più deboli. In fondo la speculazione, la sottrazione delle risorse, vedi, la foresta amazzonica, porta ricchezza a tanta gente e disperazione a tanti altri. E allora il nostro pensiero è anche questo. Fra l'altro, ecco, abbiamo un'idea in embrione, può darsi che non riusciremo a realizzarla, però è un'idea che abbiamo ed è sulla salute povera. La salute povera è questo. Tanta gente non si può permettere di curarsi perché non ha i soldi per acquistare i farmaci. Ci sono delle fondazioni che fanno le raccolte dei farmaci, però quello che vogliamo fare noi è questo. C'è tanta gente che ha farmaci a casa, magari ha finito di utilizzarli, è che se ne fa. Tante volte vengono buttati e non vengono buttati correttamente. Se vengono smaltiti in modo corretto hanno un costo nello smaltimento e nella trasformazione. Ma quando vengono smaltiti in modo non corretto hanno delle conseguenze sull'ambiente. E allora noi stiamo cercando di fare un centro dove raccogliere questi farmaci. Devono essere in buone condizioni. La scadenza deve essere a distanza di otto mesi. Naturalmente deve essere tutto controllato da farmacisti e poi distribuiti a chi ha bisogno. Questa è un'iniziativa che stiamo pensando di fare e che cercheremo di portare avanti. Altra iniziativa sono queste passeggiate ecologiche che sono anche spirituali perché sono momenti di raccoglimento. In determinate zone del paese, magari quelle limitrofe, ci sarà la passeggiata, il raccoglimento religioso e raccoglieremo i rifiuti che troveremo ai bordi della strada. Sono idee. C'è la speranza che si possano attuare. Io ringrazio Tina ed Elio per essere stati oggi qui con noi. Grazie mille. Noi ringraziamo te per averci invitato. Grazie. Salute e ringrazio tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito. A presto Denise Arcieri.